Piacere, sono Somole Cancelli, sono di Palazzolo e mi sono appassionato al mondo del bere quando ho cominciato a far da bere in Australia. Sono tornato qui, ho aperto un ristorante che si chiama Yugen, a Palazzolo, quindi vi aspetto. Abbiniamo cocktail al cibo giapponese. Mi sono appassionato al mondo della mixology e sto studiando anche una parte di vini, perché comunque è importante, essendo nella nostra bella nazione, imparare a bere bene. L'importante secondo me, per gusto personale, consiglio di imparare a bere bene un rosso, ovvero perché il rosso? Perché il rosso è quella tipologia di vino che basta veramente poco per poterlo gustare appieno. Un consiglio che vi do è di imparare queste cose, di intraprendere questa strada, sfruttando quello che la nostra nazione ci dà, possiamo imparare a bere bene. Bere bene vuol dire anche vivere bene. Un saluto! Grazie!